9 giorni al battesimo stagionale, poco più di una settimana all'esordio nel campionato di eccellenza fissato per domenica 25 aprile in trasferta contro il Ginosa. Il Bitonto è pronto dopo la grande amarezza per la recente retrocessione e nei giorni scorsi ha potenziato l'area tecnica con l'innesto del nuovo coordinatore Gianni Del Vecchio, in passato per 5 anni dirigente dell'Altamura e con esperienze successive in eccellenza lucana tra Montescaglioso e Tricarico nella passata stagione. È stato all'Arboris Belli. L'idea Bitonto è nata così all'improvviso, dopo una chiacchierata estiva con il mister Giacomo Marasulo si parlava del Bitonto, non Bitonto, poi dopo qualche giorno ho saputo che lui è il nuovo allenatore del Bitonto e ho avuto piacere di incontrare la società e tutto l'organigrama del Bitonto e niente, dopo qualche giorno abbiamo chiuso tutto, ecco c'è stato un bel feeling subito dall'inizio. Ufficializzato anche l'inserimento nell'area tecnica di Francesco Morgese, per lui si tratta di un ritorno in Neroverde. Del Vecchio intanto ritrova Bitonto come allenatore Giacomo Marasulo, i due sono stati insieme sia a Montescaglioso che ad Albarobello. Lui è sempre una persona che sta in partita dal basso per porsi obiettivi più alti. Ecco, già il rapporto con i ragazzi, ma io lo conoscevo già da due anni, tre anni quasi, è bello vedere un allenatore che non è il solito allenatore, sai, quello che si mette in riga, ha un rapporto bellissimo con i ragazzi e questa è la cosa diciamo che mi ha colpito subito di lui, già ai tempi di Montescaglioso. Del Vecchio accoglie con soddisfazione il ritorno dell'eccellenza con il format a girone unico. È molto più entusiasmante e più competitivo, ecco, se così vogliamo dire. Comunque è un girono fatto di squadre blasonate, qualcuno è salita, qualcuno è scesa, però sai, è bello poi quando ti confronti con squadre importanti, anche diciamo di media, bassa classifica, ecco, è molto più, per me è più stimolante, più entusiasmante partecipare in questi gironi. Organico profondamente rinnovato rispetto al recente passato per il Bitonto, poche le conferme, tra cui il leader difensivo Michele Aprile, non parte come squadra da battere, ma la voglia di stare in alto non manca. Gli obiettivi di quest'anno, innanzitutto, di mantenere la categoria, questa è la prima cosa principale ed importante, prefissata da noi. È chiaro che ci sono anche i playoff come secondo obiettivo e non nascondo a dirlo, punteremo anche i playoff. Ovviamente restiamo fermo restando che abbiamo una buona e ottima squadra, molto competitiva, che se la può giocare con tutti. Grazie.